Eccoci qua a questo breve incontro introduttivo su quello che vorrebbe essere da parte mia una serie probabilmente di incontri video audio video sia audio che video sui temi a me tanto cari della sperimentazione vocale musicale teatrale e sonora dunque intanto benvenuti benvenute come vedete il clima è totalmente casalingo lì aspetta sto sbagliando mano lì c'è Derek che si fa le pulizie lì vedete una ciabatta di Alessandro ecco siamo in clima assolutamente rilassato informale dunque mi è venuta quest'idea siccome il mondo della sperimentazione vocale della sperimentazione sonora teatrale musicale è un mondo così diciamo non particolarmente divulgato non particolarmente conosciuto non particolarmente favorito soprattutto mi piacerebbe così invitare degli artisti intanto che io stimo e con i quali ho già più volte collaborato proprio per parlare in streaming ovviamente in questo periodo e questo è il mezzo che noi possiamo utilizzare ci sono poche storie da questo punto di vista usare il mezzo streaming per potere così parlare un attimo delle reciproche esperienze della reciproca delle reciproche forme forme artistiche e quelli che possono essere anche gli obiettivi quelli che possono essere quello che può essere anche una come dire rivalutazione delle proposte alla luce dei tempi odierni perché come anche tutti i musicisti tutti gli attori danzatori professionisti e non artisti di vario genere che ci si trova appunto in questo periodo a non lavorare o a lavorare molto poco o avere comunque ridimensionato cambiato modificato grandemente quella che è la propria attività artistica è a maggior ragione ancora di più il mondo sperimentale è quello è ancora ancora più ne risente da un lato ma dall'altro lato secondo me ha le risorse l'inventiva anche per ricrearsi nuovi spazi proprio in virtù del fatto che non segue schemi che non ha bisogno di far cassetta che non segue diciamo quelle che sono i diktat del mondo commerciale dell'intrattenimento qui siamo in una realtà che non è né commerciale né tantomeno di intrattenimento e quindi di conseguenza potremmo si possono così si possono aprire nuove strade nuove vie ovviamente invito anche eventuali altri artisti magari che io non conosco con i quali io non sono in contatto o con cui io sono in contatto e hanno voglia di partecipare a questo tipo di di dialogo a questo tipo di incontri e di relazioni video ripeto e audio a livello virtuale mediante internet se vogliono partecipare a questo tipo di incontri assolutamente di chiacchiera informale in cui però cerchiamo di tirare fuori dei contenuti possibilmente che ci siano che ci siano utili e che ci facciano bene ecco in questo caso invito a contattarmi ovviamente insieme a questo video ci saranno anche i recapiti a cui mi potete contattare però tendo a sottolineare che stiamo parlando di trasmissioni che saranno in streaming e che riguarderanno esclusivamente il mondo della musica sperimentale del teatro sperimentale della vocalità sperimentale ecco quindi soltanto questi ambiti non non c'entra il pop non c'entra il rock non c'entra il jazz non c'entra nessuna forma musicale che anche io frequento ma quello che io sto lanciando è assolutamente da sull'aspetto diciamo della sperimentazione vi ringrazio e così io spero spero che ci sia un seguito a questo video perché in ogni caso io queste trasmissioni queste questi momenti li farò al di là di chi parteciperà quindi da parte mia c'è questo questo impegno assolutamente a volerne parlare volerne discutere cosa che è importante in tutti i tempi ma a maggior ragione in questo periodo in cui le possibilità espressive sono per tutto il mondo artistico e creativo ovviamente limitate però bisogna anche dire che mediante quando si è da qualche parte un po limitati su qualcosa è il momento in cui c'è anche l'opportunità per sviluppare maggiormente ancora più maggiormente la creatività e l'inventiva grazie a tutti veramente